Si chiamava Lucille Randonne, era una donna che si aspetta alla veneranda età di 118 anni, era la persona più vecchia del mondo, che ha lasciato il posto il primato a Maria Branias Morera, di soli 115 anni, si fa per dire che vive in Spagna. La donna in questione viveva in Francia, ripeto, si chiamava Lucille Randonne, 118 anni di età, è morta ormai da un po' di tempo a questa parte, ed era una donna grintosa, nonostante gli anni ancora andava avanti, poi ovviamente si è verificata la morte come giusto che sia, perché vi ricordo che ogni essere umano, ogni essere vivente vive, nasce, quindi nasce, cresce, invecchia e poi muore, come tutti gli esseri viventi, animali quindi, e quindi umani, gatto, cane, pesce e veri seguito. Beh, adesso il primato spetta a Maria Branias Morera, vi ringrazio per l'ascolto, la donna è ancora in vita e vive in Spagna, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate e Lucille Randonne, che tu possa riposare in pace, Amen.